Buongiorno a tutti, benvenuti, siamo nell'associazione Vogherae in via Felice Cavallotti 16 e siamo in compagnia di uno scrittore che avevamo già avuto modo di conoscere qualche mese fa e che nel corso di questi mesi ha fatto un lungo viaggio e oggi è tornato qua ad Occhio Pavese per raccontarci un po' com'è andata. Lo scrittore di cui vi sto parlando è Michele Orione, benvenuto. Benvenuto, grazie. Sono passati qualche mese ma sembra passata in realtà una vita da quando ci siamo visti, penso fosse giugno, luglio più o meno come periodo. Quindi insomma è stato un bel viaggio sicuramente, un viaggio che è andato tante tappe. Adesso ce lo racconti, adesso ce lo racconti. Per chi non ci avesse seguiti in precedenza insomma quando ci siamo visti appunto quest'estate, volevo che tu raccontassi un attimino Ho imparato a sognare, Ho imparato a sognare è la sua opera dedicata ai giovani e non voglio dire delle banalità, però proprio le nuove generazioni hanno un po' accantonato il libro sia quello cartaceo che l'ebook per dare più spazio magari ad altre forme di intrattenimento diciamo così, penso ai social, agli smartphone eccetera eccetera Ecco, allora io ti chiederei di raccontarmi come mai questo libro è dedicato ai giovani e di dare alle persone più giovani che ci stanno seguendo un valido motivo per spendere quegli euro per andare su Amazon piuttosto che su un e-store oppure in un negozio e prendere il libro cartaceo quindi un valido motivo per acquistare Ho imparato a sognare Allora, parto da quest'ultima domanda innanzitutto perché gli euro sono relativamente pochi penso che costa il libro prezzo di copertina di 10 euro si può trovare in giro anche qualcosa meno quindi sono tante paginette che raccontano di sogni di loro, della loro generazione di quanto è importante credere in loro quindi anche diciamo così per loro può essere sostanzialmente un aiuto nel capire che i sogni vanno veramente inseguiti con la massima intensità e dedicato ai giovani anche nel senso che gli adulti che hanno letto questo libro possono essere motivati a ricordarsi di essere stati anche loro ragazzi di aver avuto anche loro dei sogni e di essere diciamo così a fianco di questi giovani a inseguirli, a aiutarli a realizzare quelli che sono i propri sogni, le proprie aspettative indirizzandoli, guidandoli, sgridandoli ogni tanto anche quello sì educandoli ma comunque facendo un po' da compagno di viaggio questo è importante io ho deciso di scrivere questo, come lo chiamo, romanzetto sia per le dimensioni piccole che ha diciamo così il testo perché sono tante pagine sia per una questione affettiva l'ho chiamato così, so chiamarla così a giugno e diciamo che è stata una cosa abbastanza positiva ha portato abbastanza bene diciamo così ho deciso di scrivere questo libro, metterlo su carta perché secondo me la carta ha ancora un fascino molto intenso la dimostrazione è che nelle vendite di questo libro le vendite possono non contare ma sostanzialmente sono state molto più le vendite quelle del cartaccio che non di ebook o di altre forme più moderne quindi credo che per certe forme di cultura anche se non autodefinisco il mio libro cultura rimanga sempre vai dalla vecchia carta stampata il sapore della carta è ancora un fascino e qui siamo avvolti da questo fascino dei libri quindi sicuramente tutto questo attraverso lo sport perché poi il libro parla di sport e parla di sogni sportivi ma sì sport grazie per la domanda mi piace molto poter rispondere perché in realtà lo sport in questo libro è una metafora di vita io ho cercato di dare degli insegnamenti banali, semplici non mi permetto, non sono così ambizioso da insegnare qualcosa ad altri ma parlando di sport, di quelle che sono le vittorie, le sconfitte, il gioco di squadra e rispetto alle regole degli avversari credo che lo sport sia veramente maestro e metafora di vita in questo caso lo sport di cui parlo è la pallavolo di cui sono appassionato ormai da 15 anni seguono ogni sua forma quindi ho voluto dedicare questo romanzetto appunto allo sport e alla pallavolo lo sport come insegnamento ed è fondamentale lo sport nella crescita non solo fisica ma anche umana, mentale delle persone ecco l'hai detto prima tu hai definito quest'opera un romanzetto e tu ti definisci non uno scrittore ma uno scrivante ora mi chiedo è eccesso forse di umiltà oppure ti tornano un po' scomode le etichette? guarda, entrambi voglio raccontarti un aneddoto nel momento in cui ho pubblicato anche per necessità commerciali che il mio libro era in testa alle classifiche della mia casa editrice che ringrazio, approfitto ancora per ringraziare diciamo il nome della casa editrice casa editrice Chimerick una casa editrice che da 18 anni è una bellissima realtà della microeditoria italiana e che mi ha seguito veramente come se fossi un pargolo da allevare è stato veramente un... ringrazio ancora tutte le ragazze dello staff Gianfranco tutti quanti quando appunto ho pubblicato questa notizia anche per esigenze commerciali perché ci sta anche quello il commento più bello che ho ricevuto a parte i complimenti è stato quello di un'amica che io cito sempre che mi ha detto si vede che c'era poca carta ai piedi cammini e siccome fa freddo andava a cesi cammini ecco questo è il commento mi piaciuto di più perché racconto un po' anche come sto prendendo questa avventura come la sto vivendo sicuramente qualche salto di gioia qualche brindisi ci sta perché comunque sono soddisfazioni non lo nego però rimanere sempre ben ancorati a terra perché altrimenti si rischia di cadere dall'alto ecco tutta questa umiltà ma poi in realtà lo scorso anno è andato veramente tutto molto bene perché pensate che tra i tanti libri editi proprio della Chimerica che hai citato poco fa ho imparato a sognare è stata l'opera più venduta più acquistata nell'arco dell'anno appena finito durante il 2016 e questa richiesta sempre più crescente ti ha portato a girare un po' tutta l'Italia come sono andati questi ultimi mesi rispetto all'ultima volta che ci siamo visti? è stato un sogno se posso dirlo parafrasando il titolo del libro ho imparato a sognare ho imparato a sognare e come dice mia mamma ogni tanto cito anche lei ho imparato a viaggiare nel senso che mi ha imparato veramente in giro viaggiare già l'ho imparato prima ma in questi ultimi mesi ho avuto l'opportunità davvero di conoscere di rivedere tanti posti bellissimi da Napoli a Conegliano a Pistoia a Roma insomma ho fatto un bel viaggio l'ho fatto sempre con lo spirito di divertimento e soprattutto con lo spirito di tornare poi a casa non dimenticare da dove si parte qualunque sia il viaggio qualunque sia la sua intensità il divertimento del viaggio è bello non dimenticare mai da dove si parte e poi tornare a casa quindi tornare in mezzo agli amici tornare in mezzo alle persone che comunque mi hanno sostenuto fin dall'inizio e in giro ho trovato veramente tante persone non pensavo che hanno creduto in questo libro in questo romanzetto che sono state incurusite da questa copertina rossa da questa ragazza che salta più in alto di tutti è stata veramente una bellissima esperienza il viaggio non è ancora finito ci saranno ancora un paio di tappe a sud tornerò a sud caloroso a sud probabilmente in Sicilia e quasi sicuramente in Puglia e poi penso di concludere diciamo così quello che chiamano tour a Torino al Salone del Libro quindi farò una presentazione lì e poi ci saluteremo ci concederemo è davvero un bel viaggio devo dire che anche pensare da come è partito tutto e alle soddisfazioni che sono state messe da parte nel corso dei mesi davvero un bel viaggio e questo viaggio farà tappa anche proprio qui dove siamo a Voghere questa associazione vogherese che si trova in via Felice Cavallotti numero 16 la data è venerdì 20 gennaio alle ore 21 ci sarà la presentazione del libro che sarà aperta anche a tutti i vogheresi per cui vi invitiamo a venire qui a conoscere Michele Orione in che cosa consisterà la serata allora la serata sarà una diciamo ho fatto anche altri incontri a Voghera con altri amici che approfitto ancora per ringraziare questa avrà la formula di una presentazione classica quindi ci sarà un relatore che sarà una professoressa professoressa Tiglia Vicini che ringrazio sia per l'invito sia perché accetta di interrogarmi e forse è la prima volta della mia vita che sono felice di un'interrogazione perché ho diciamo costudiato il testo questa volta non sono andato perché l'ho scritto quindi diciamo questo ma tutta parte sono molto felice di tornare nella mia città di tornare a Voghera e quindi di farlo in questa associazione e spero, confido veramente nella partecipazione di tante persone curiosi anche persone che vogliono fare delle critiche comunque che hanno letto il libro e hanno delle curiosità piuttosto che delle domande su quello che può essere la loro sensazione del libro e tutto quanto quindi l'invito a tutti i vogheresi Tra l'altro la professoressa Vicini è un'insegnante dell'Istituto Gallini dell'Istituto Agrario di Voghera e tu qualche settimana fa hai avuto modo di confrontarti con gli studenti di questa scuola è stata un'esperienza bellissima e devo dire senza nulla togliere alle altre presentazioni che andare in mezzo ai ragazzi confrontarmi con la generazione con quella generazione con la generazione della nanà cioè protagonista del libro è stata qualcosa di veramente molto emozionante è stato un confronto veramente molto istruttivo che mi ha ancora una volta più fatto mi ha convinto ancora di più che in questa generazione in questi giovani bisogna credere non bisogna smettere di credere perché sono futuro del mondo e come ho scritto anche sui social un paio di mesi fa anzi nel mese scorso se questi sono i giovani a cui fidare il futuro ben venga sono molto felici di farlo perché sono stati giovani veramente molto dinamici veramente molto partecipativi molto in gamba con alcune osservazioni alcune critiche c'è anche chi ha criticato il finale del libro abbiamo discusso di questa cosa perché è giusto a me piace molto confrontarmi con chiunque e questa diciamo così questo confronto queste due ore sono state veramente molto belle molto intense sono state una delle esperienze del libro che sicuramente mi ha fatto crescere mi ha fatto imparare molto perché sono andato non per insegnare da loro ma per imparare da loro e l'abbiamo citata prima ed eccola qua la prof vicini direttamente dall'istituto agrario Gallini devo spezzare una lancia a favore dei ragazzi non è detto che i ragazzi non leggano infatti io mi diverto ancora moltissimo stare con loro tutte le mattine a scuola ho invitato io Michi è stato molto piacevole sedermi tra i banchi e ascoltare lui fare il professore per una volta quindi abbiamo giocato un po' all'inversione di ruoli e devo dire due o tre cose un romanzetto va benissimo perché la prima cosa per cui i ragazzi mi hanno ringraziata perché naturalmente devono leggere ho imparato a sognare durante le vacanze di Natale hanno detto che bello com'è corto la prima considerazione assolutamente prima cosa che si fa è guardare quante pagine ho un libro non sono di quegli insegnanti che danno a leggere in mala voglia per rovinare le vacanze scelgo sempre libri spero interessanti e stimolanti a volte un po' più lunghi rispetto a questo però poi c'è stato immediatamente un salto di qualità perché sono arrivati a casa e hanno iniziato subito non hanno aspettato le vacanze molti di loro lo hanno letto in due giorni sono tornati contentissimi quindi il primo riscontro è che i ragazzi si sono divertiti quindi ogni libro scritto in un buon italiano che coinvolga i ragazzi nella lettura è comunque in sé un merito un valore in più questo libro educa comunque insegna il valore educativo dello sport che è comunque una delle discipline che a scuola contribuiscono a formare i giovani poi l'altro riscontro positivo è stato quello dei genitori perché i ragazzi mi avevano detto ma mia mamma me l'ha tolto di mano così non l'ho finito perché l'ha voluto leggere lei oppure mio papà in altri casi però appunto magari dicevo forse se lo sono inventato i ragazzi e invece no poi ci sono state le udienze generali le terribili udienze generali in cui si ricevono 50 genitori in un pomeriggio in due ore e molti molti degli genitori di seconda perché è una seconda chimico che sta facendo questa esperienza sono venuti veramente a ringraziarmi quindi è un ringraziamento che io devo girare all'autore perché io non c'entro niente ho fatto solo da tramite non è semplice mettere d'accordo ragazzi e genitori infatti in questo caso devo dire che tanti genitori che sono genitori giovani perché i ragazzini hanno 15 anni insomma magari genitori che non sono stati sportivi che hanno hanno trovato molto interessante la lettura e hanno trovato soprattutto bello il vedere i loro figli leggere con tanto entusiasmo quindi direi che è stato un triangolo Michi i ragazzi e l'insegnante che ha funzionato benissimo che è diventato poi un quadrilatero con i genitori insomma quindi ci siamo divertiti no Michi direi di sì e i ragazzi sono contenti adesso non sono ancora tornato a scuola perché oggi è il mio giorno libero ma domani li vedrò e verificherò la lettura comunque aspettiamo di nuovo Michi per un feedback entro il mese ok per concludere a proposito di futuro cosa ti aspetti da questo 2017 appena ha cominciato e cosa ti auguri invece per i coetanei di Nana allora per il 2017 per Michi d'Orione non tanto scrivante ma uomo di metterci la passione che ci ha messo fin qui in questi 38 anni di vita e nel fare tutto quello che ha fatto che poi possa andare bene o male ma metterci comunque passione per i ragazzi coetanei di Nana l'augurio è quello che è un po' il claim che è diventato nei mesi il claim sia della mia vita che del mio libro che è con il cuore sempre cioè anche loro l'augurio che faccio a loro è quello di metterci sempre passione infinita in tutto quello che fanno credere nei loro sogni credere in loro e loro stessi e anche ascoltare quelli che hanno magari qualche capello bianco in più e quindi ribadiamo l'appuntamento con Michele Orione la presentazione del libro Ho imparato a sognare presso l'associazione Volgherai venerdì 20 gennaio alle ore 21 ovviamente in via Felice Cavallotti numero 16 in bocca al lupo per questo nuovo anno e grazie crepi il lupo grazie a voi in bocca al lupo anche a voi